bene, usiamo MonsterMash demo in realtà è già perfettamente funzionante è un programmino, MonsterMash.Zone che permette di estrarre praticamente dei modellini 3D da una foto quindi, adesso quando entriamo, praticamente facciamo Import Template Image, quindi facciamo New quindi partiamo da un modello nuovo, poi facciamo Import Template Image e scegliamo la foto da cui vogliamo partire perfetto, io parto da questa foto questa foto dobbiamo raccogliere tutti i vari elementi e facciamo un disegno, praticamente dobbiamo cercare di fare dei vari pezzi, quindi dobbiamo cercare di dividerla in suoi elementi costitutivi quindi per prima cosa facciamo la faccia adesso faccio molto approssimativamente perché se no diventa troppo lungo poi facciamo il braccio, questo ok e ci facciamo anche la mano in realtà bisognerebbe probabilmente separare le sue componenti facciamo l'altro braccio con la mano ok facciamo il piede qua quindi facciamo tipo questo facciamo la gamba facciamo l'altra gamba facciamo un più o meno simmetrico quello che è più o meno potrebbe essere l'altra gamba ok poi facciamo il corpo questo lo faccio sempre in maniera un po' approssimativa per fare un po' in fretta poi facciamo il gondellino questo ok e poi facciamo ancora questo ultimo pezzo qua che è questo oggetto che abbiamo visto qua che è questo strumento musicale cerchiamo di ritagliarlo il più possibile e più in alto per capire il meccanismo con cui viene fatta questa cosa qua ok una volta fatto questo sistema qua facciamo inflate e l'inflate praticamente ci dovrebbe far vedere tutti i vari pezzi vedete che ce li separa allora il fatto che ce li separa in realtà è un bene perché così possiamo elaborarli un po' bene possiamo tentare di elaborarli da blender se vogliamo in realtà poi c'è uno strumentino che ci permette di fare le stesse cose senza senza passare da blender comunque adesso passiamo da blender ok allora quando sono in blender che praticamente per ottenerlo ho dovuto fare l'export quindi da qua ho fatto il scarico la sono esportato come vj o come glb vedete voi e poi da blender ho fatto l'import file import e poi qui in realtà lo vedete già toccato nel senso che questo è già praticamente il mio modellino e questo modellino praticamente quando lo seleziono se faccio in editor posso selezionare tutte le parti connesse cliccando su una parte facendo l e quindi ho dovuto soltanto fare g e y per spostarle nel posto più o meno giusto che più o meno fosse sembrasse più o meno adeguato ok? per mantenere la cosa che era a questo punto come vedete abbiamo praticamente il nostro modello che possiamo importare in incospaces facendo a questo punto sempre il file export glb quindi file export per esempio glb e nel momento in cui poi l'exporto adesso vi faccio vedere brevemente come viene cioè adesso come vedete ho fatto un po' in fretta quindi è venuta il maluccio in generale non viene splendidamente però comunque fa già una sua figura adesso se riesca vi faccio vedere come viene in cospaces ecco come promesso in cospaces appare più o meno così non è splendido diciamo però è già interessante perché praticamente abbiamo gonfiato i vari pezzettini con cui li abbiamo estratto quindi è leggermente meglio rispetto a semplicemente portare la fotina e ha avvantaggio che è anche un'attività che credo che ai bambini piaccia anche molto fare quindi possono prendersi qualunque foto addirittura funziona molto meglio con gli animali per dire e farò anche un altro video dove spiego questo sistema qua un po' più preciso con un prodotto che costa leggermente nel senso praticamente gratuito ma la persona che l'ha fatto ha chiesto di avere un contributo se si usa di 2 euro e qualcosa adesso vi farò vedere tra poco come si usa quell'altro strumento che però è molto simile a questo con qualcosina in più